Il personale della Polizia di Stato ha effettuato un'attività straordinaria di controllo del territorio nel quartiere Acquabona, in cui sono stati impegnati i poliziotti della squadra mobile del reparto Prevenzione Crimine e della sezione Cinofili della Questura di Vipo Valencia, che hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari e identificato 20 soggetti, di cui 13, con pregiudizie di polizia e penali. Il personale operante nel corso di una perquisizione domiciliare, anche grazie al frutto del cane antidroga di costo della Questura di Vipo Valencia, ha rinvenuto 35 grammi di marijuana, 53 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché tre armi perfettamente funzionanti. In particolare sono stati rinvenuti una pistola semiautomatica marca Bernardelli, modello 60 Cali Pro 22, che è risultata a provento di furto, un fucile semiautomatico, Cali Pro 12, e un fucile a pompa, modello Escort Cali Pro 12, armi tutte illegalmente detenute. Pertanto, una donna di 40 anni, che aveva la disponibilità dell'abitazione, è stata tratta in arresto per detenzioni illegali di arma clandestina e di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Nel proseguo dell'attività, i poliziotti hanno anche rinvenuto un involucro di cellofan contenente 59 grammi di marijuana, gelata sotto alcuni rifiuti, sul ciglio della strada, che è stata sequestrata a carico di ignoti.